buongiorno a tutti ben ritrovati e benvenuti a questa nuovo intervento a questa nuova diretta questo nuovo bike italia talks il secondo bike italia talks della nuova stagione che sta per iniziare la nostra terza stagione insieme io sono amargatti e vi do il benvenuto a questo bike italia talks innanzitutto volevo ringraziare tutti quelli che sono venuti a trovarci in fiera rimini se avevate avuto l'occasione di venire all'italian bike festival e quindi di incontrarci parlare con noi portare un saluto chiacchierare insieme per cui grazie grazie mille a tutti quanti per aver per essere passato ai passati al nostro stand presso il l'italian bike festival questo weekend spero che la fiera vi sia piaciuta sia stata interessante e che vi abbia fatto lucidare gli occhi con le nuove proposte e le nuove biciclette che erano in esposizione detto questo partiamo a bomba con il tema di questa di questa diretta che è di quanti muscoli ha bisogno il ciclista ne parliamo perché perché il tema della muscolatura per il ciclista è un tema quasi paradossale nel senso che molti ciclisti sono quasi hanno timore di mettere su muscolo hanno paura che un eccesso di muscolatura vista con un'ottica da bodybuilder quindi di persone grosse grandi e pesanti possa rallentare ridurre la performance in realtà è stato visto che il ciclista ha bisogno di una muscolatura forte di una muscolatura sana di una muscolatura che sappia resistere nel tempo all'affaticamento cioè che abbia come caratteristica principale la resistenza muscolare cioè la capacità di protrarre nel tempo la contrazione muscolare anche in condizioni di affaticamento del sistema nervoso quindi di affaticamento centrale sia in condizione di progressiva acidificazione del sarcoplasma cioè di progressivo accumulo di lattato nel sangue di acido lattico nella cellula quindi di quanti muscoli ha bisogno il ciclista allora gli studi hanno valutato diciamo il ciclisti professionisti e gli amatori evoluti ed è stato visto che un ciclista se vuole essere performante dovrebbe avere rispetto al suo peso corporeo il 10 per cento di massa grassa e il 40 45 per cento di massa magra per cui io per esempio che peso 67 chili per un metro e 73 dovrei avere il 45 per cento di questo peso come massa magra massa muscolare tendinea e il 10 per cento di massa grassa questo è visti gli studi viste le performance l'ottima ripartizione fra massa magra e massa grassa di un ciclista c'è un problema il problema è che la pratica stessa della bicicletta produce una perdita di massa magra di massa muscolare perché questo questo avviene perché la progressiva pedalata quindi quando noi pedaliamo cosa succede noi utilizziamo principalmente due fonti energetiche che sono i grassi sia i trigliceridi intermuscolari che i grassi mobilizzati dal tessuto adiposo sia il glicogeno quindi il glucosio che viene scisso dal glicogeno ma mano che procediamo nella pedalata il glicogeno muscolare viene depleto cioè noi consumiamo tutte le nostre riserve di glicogeno per sopportare ulteriormente per sostenere ulteriormente la pedalata allora il nostro corpo inizia a utilizzare le proteine gli amminoacidi che sono i mattoncini che che costituiscono le proteine mattoncini che da prende da cosa dal nostro muscolo quindi in sostanza il muscolo per continuare a contrarsi deve cannibalizzare se stesso e questa situazione viene chiamata catabolismo muscolare e quindi alla lunga il ciclista che pedala continuamente utilizzando sempre le riserve di glicogeno deplete tende a consumare la massa magra e questo non è positivo infatti se notate moltissimi ciclisti sono magri ma non sono muscolosi appunto perché l'attività aerobica di endurance protratta per alto volume produce una riduzione della massa magra un catabolismo della massa magra quindi cosa noi dobbiamo fare questa cosa poi è ancora più importante se noi utilizziamo la bicicletta come strumento per dimagrire mettiamo il caso di essere levemente sovrappeso e di voler dimagrire con la bicicletta quindi aumentiamo il nostro volume di attività fisica pedalando è stato visto che nei primi due mesi da di un'attività fisica e di una dieta quello che viene consumato e quindi quello che riduce diciamo il nostro peso non è il grasso noi non bruciamo i grassi bensì consumiamo soprattutto massa magra questo perché perché a riposo la massa magra ha un costo energetico maggiore di quella grassa e quindi il nostro corpo immediatamente si disfa di quello che consuma di più che è la massa magra poi dopo i due i primi due mesi tenderemo ad aumentare il consumo di tessuto adiposo rispetto alla massa magra per cui è importante per un ciclista avere dei muscoli forti sani e resistenti ma la pratica del ciclismo produce una riduzione della massa magra stessa quindi il nostro obiettivo dovrà essere quella di preservarla come possiamo fare allora il primo è quello di aumentare l'introito proteico quotidiano le proteine vanno a costituire la il muscolo le fibre muscolari noi dobbiamo aumentare il nostro carico il nostro introito proteico affinché il muscolo abbia sempre delle nuove riserve con cui costruire e rigenerarsi quella che viene chiamata la sintesi proteica teoricamente un sedentario avrebbe bisogno di 0,8 grammi pro chilo corporeo di proteine al giorno quando da sedentari diventiamo fisicamente attivi o siamo degli amatori evoluti dovremmo passare a 1,6 quindi almeno il doppio fino a 2,2 grammi di proteine pro chilo al giorno questo cosa significa per una persona come me 67 chili 2 grammi di proteine pro chilo al giorno significa 67 per 2 134 io devo introdurre almeno 134 grammi di proteine tutti i giorni con la mia alimentazione per farlo posso usare due stratagemmi il primo è l'integrazione quindi vado a aumentare l'introito proteico attraverso l'utilizzo di proteine in polvere l'altro invece è sostituire un pasto che già faccio con una versione più proteica parliamo prima della seconda fase la seconda ipotesi che è molto più semplice per aumentare l'introito proteico quotidiano possiamo passare da una colazione dolce quindi cappuccino e brioche cornetto o tazza di latte con i cornflakes a una colazione proteica una colazione proteica che potrebbe essere per esempio una frittata dolce con uova e yogurt greco o mangiare per esempio yogurt greco e noci e magari per avere anche degli zuccheri una goccia di miele quindi passare da cibi prevalentemente glucidici quindi prevalentemente zuccherati a una colazione più proteica in questo modo senza cambiare le mie abitudini alimentari senza andare a stravolgere quello che è il mio il mio introito calorico ho semplicemente aumentato il mio apporto proteico e quindi ho salvaguardato nell'ottica i miei muscoli un altro stratagemma è quello di integrare con proteine di sintesi con proteine in polvere in questo caso il mio consiglio è di utilizzare le proteine whey le proteine whey che sono derivate dal siero del latte se siete allergici, intolleranti o vegani ci sono anche le versioni non derivate dal siero del latte le proteine whey sono ottime perché entrano velocemente nell'umo intestinale vengono digerite in fretta e c'è quello che si chiama partizionamento calorico cioè il muscolo le riconosce immediatamente e le assorbe in maniera rapida il mio consiglio è questo prendete le whey e le introducete nel vostro corpo immediatamente dopo la pedalata quindi voi vi fate la vostra pedalata andate a fare il vostro allenamento subito dopo la pedalata prendete un bicchiere sciogliete 30 grammi di proteine in polvere io vi consiglio di usare quelle senza aromi perché quelle con gli aromi al cioccolato, alla vaniglia eccetera tendono ad avere troppi zuccheri in più ed edulcoranti e composti un po' più chimici invece io prendo quelle neutre senza sapore prendete un bicchiere d'acqua, una tazza d'acqua buttate dentro un misurino da 30 grammi mescolate per far sciogliere, ingerite poi vi fate la doccia e poi dopo la doccia mangiate anche dei carboidrati in questo modo avete sfruttato quella che si chiama finestra anabolica finita l'attività il nostro muscolo è una spugna perché è una spugna? perché è stato stressato subito gli diamo delle proteine in questo modo riduciamo il catabolismo risintetizziamo gli amminoacidi persi e miglioriamo il recupero è stato visto che assumere proteine immediatamente dopo l'attività di endurance permette di agevolare il recupero faccio la mia doccia dopodiché la finestra anabolica solitamente dura 40 minuti ho ancora il tempo di recuperare e ripristinare le riserve di glicogeno con un pranzo, una colazione o un pasto a base di carboidrati quindi queste sono le due soluzioni o passate a sostituire un pasto molto facile con la colazione da dolce a proteico oppure integrate le proteine assumendole subito dopo piccola nota se già assumete le proteine, quindi le whey non c'è bisogno di assumere anche i BCAA gli amminoacidi ramificati perché tanto nelle whey c'è già tutto quello di cui il vostro corpo ha bisogno e anche gli amminoacidi ramificati se ne prendete di più non serve a nulla perché state semplicemente introducendo qualcosa che il vostro corpo poi non assorbe e dovrà poi eliminare dai reni attraverso l'urina questo è un po' sono gli stratagemmi che potete utilizzare per salvaguardare la vostra massa muscolare in bicicletta poi ovviamente ci sono altre due cose importanti da sapere per far sì che i muscoli siano forti, pronti, eccetera a superare le vostre attività fisiche in bicicletta la prima è che almeno una volta a settimana minimo due volte a settimana se volete gareggiare o se avete obiettivi ambiziosi dovete allenare la forza non ce n'è ragazzi se volete salvaguardare i vostri muscoli dovete allenare la forza dovete sollevare i pesi oppure allenarvi a corpo libero questo perché? perché l'allenamento della forza migliora la coordinazione muscolare migliora lo stato delle fibre migliora la tonicità dei muscoli e in ottica migliora anche la capacità di resistere in condizioni di affaticamento quindi almeno una volta a settimana un allenamento della forza anche general generico con esercizi di tipo come posso dire a corpo libero squat a muro eccetera trovate su Bike Italia trovate tantissime indicazioni lo dovete fare la seconda cosa è se vogliamo salvaguardare la massa magra il nostro obiettivo deve essere quello di far sì che a riposo il nostro corpo bruci più grassi e le fornaci delle nostre cellule che bruciano grassi e carboidrati per mantenere per l'energia sono i mitocondri i mitocondri sono degli organelli di forma ovale che all'interno grazie a reazioni particolari come il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa prendono il glucosio e gli acidi grassi e li trasformano in energia utilizzando l'ossigeno va da sé che più mitocondri io avrò più energia a riposo consumerò e questo aumenterà il mio consumo energetico quotidiano innalzerà quindi il livello totale del mio metabolismo e mi permetterà quindi a riposo di diventare una macchina bruciagrassi e di salvaguardare la mia la mia massa magra come posso fare? è stato visto che il metodo migliore per aumentare la sintesi la sintesi dei mitocondri e la come si chiama la sintesi dei mitocondri e la loro efficienza è l'allenamento ad alta intensità infatti quello che stimola tanto la prolificazione mitocondriale non è la deplezione del glicogeno in sé quanto la sua velocità se noi ci alleniamo a intensità molto elevate la deplezione del glicogeno è molto rapida se ci alleniamo a intensità costanti è molto meno rapida ed è stato visto che una deplezione rapida del glicogeno manda in allarme il corpo che quindi ha bisogno di sfruttare gli altri nutrienti per generare energia e questo per una serie di reazioni biochimiche provoca una riduzione scusate un aumento della proliferazione mitocondriale questo è appunto il metodo che vi permette di aumentare la produzione di mitocondri soprattutto delle fibre di tipo 2 quindi le fibre potenti del nostro corpo che in bici vengono utilizzate in maniera minore e quindi salvaguardare la vostra massa muscolare ora prendo qua di Riccarda Bezzi che fa una domanda che è com'è possibile che in allenamento diminuisca la massa muscolare ripetita Juvent nel senso lo ripeto magari hai perso la prima parte negli sport di endurance quando solitamente sono due le fonti energetiche principali sono il glucosio che viene preso dal glicogeno quindi il glicogeno viene scisso in glucosio entra nella cellula attraverso la glicolisi anaerobica o gli acidi grassi presi dai trigliceridi intermuscolari o dal tessuto adiposo che entrano direttamente nella cellula e vengono ossidati quando però il glicogeno viene depleto quindi non c'è più glicogeno nei muscoli e meno siamo allenati meno glicogeno abbiamo prima lo esauriamo completamente il corpo per far fronte a questo annullamento delle riserve di glicogeno inizia a scindere le proteine muscolari inizia a catabolizzare il muscolo e quindi a utilizzare gli amminoacidi come fonte energetica e questo ovviamente non è quello che vogliamo e è stato visto che un allenamento l'allenamento di endurance produce una perdita di massa contrattile rispetto a un suo aumento ovviamente stiamo parlando di atleti se guardi gli atleti di ultra endurance gli ultra cyclist o gli ultra maratoneti un Kilian Jornet per esempio è molto magro ma è poco muscoloso sia perché questo gli permette di essere leggero e quindi di avere una maggiore economicità del gesto come anche Eliud Kipkoge il maratoneta ma allo stesso tempo perché comunque c'è una gran parte di catabolismo muscolare per cui lo devi devi fare in modo di salvaguardare la tua massa muscolare allenando la forza e aumentando l'introito l'introito proteico Riccarda spero di averti risposto quindi ricapitolando le strategie che possiamo andare a inserire e a migliorare per poter salvaguardare la nostra massa muscolare sono tre la prima è aumentare l'introito proteico il ciclista nelle visite biomeccaniche parliamo il ciclista è uno che mangia pasta e cereali pasta e cereali pasta e cereali e basta in realtà le proteine sono fondamentali quindi innalziamo l'introito proteico lo portiamo almeno a 1,6 2 addirittura 2,2 in alcuni casi grammi pro chilo di peso corporeo quindi prendete quanto pesate vi pesate moltiplicate questo peso per 2 grammi e sapete quanti chilogrammi potete dovete mangiare tutti i giorni poi per tenere traccia io vi faccio vedere adesso proprio in diretta potete utilizzare una app che utilizzo anch'io che si chiama My Fitness Pal è un'app gratuita c'è la versione anche a pagamento dove andate a inserire adesso vado a prendere per esempio una giornata tipo vediamo questa questa qua per esempio voi potete andare a vedere l'introito proteico dei carboidrati e delle eccolo qua torniamo indietro ecco qua potete andare a vedere l'introito proteico dei carboidrati dei grassi diviso per ogni giorno e vedere tenere traccia così voi dovete inserire i cibi che mangiate e l'app vi dice quanti grammi di proteine di grassi di carboidrati state ingerendo questo vi permette di tenere sotto controllo l'introito proteico l'introito proteico che potete aumentare o integrando con le proteine in polvere o spostando per esempio la colazione da dolce a salata dopodiché almeno una volta a settimana alleniamo la forza fuori dalla bici non in bici e nell'altra l'altra cosa è alleniamoci anche ad alta intensità per migliorare la densità mitocondriale la loro proliferazione in modo da far sì che a riposo venga innalzato il consumo di grassi rispetto al consumo di carboidrati quindi di glucosio ematico detto questo io spero di avervi dato delle informazioni che possono essere utili sia che vogliate migliorare la vostra performance sia che vogliate aumentare le vostre prestazioni sia che vogliate dimagrire correttamente in bicicletta io vi consiglio se volete approfondire il tema oltre ad andare su bikeitalia.it dove potete trovare un sacco di articoli abbiamo due corsi online che potete fruire direttamente da casa che vi possono aiutare a approfondire il tema e migliorare il primo è alimentazione ottimale per il ciclismo è un corso online tenuto dalla nostra dietista Miranda Valtorta specializzata in sport di endurance che vi permette di andare a capire come alimentarvi correttamente prima durante e dopo l'attività perché per esempio molti sono convinti che introdurre carboidrati durante l'attività pratica l'attività fisica quindi durante la pedalata riporti in alto le scorte di glicogeno invece serve solo a mantenere corretta la glicemia perché tutto quello che introduciamo all'interno del nostro workout non produce una nuova sintesi di riserve che invece vengono risintetizzate dopo la pedalata per cui imparare a gestire questa cosa cosa mangiare prima durante e soprattutto dopo è fondamentale l'altro corso che vi suggerisco è un corso specifico su come allenarsi ad alta intensità è appunto allenamento ad alta intensità per ciclisti dove vi spiego sono io il relatore vi spiego il funzionamento dell'allenamento ad alta intensità e come andare ad allenare le capacità quindi con allenamenti con intervalli lunghi vado ad allenare più la capacità aerobica con intervalli brevi ma molto frequenti vado ad allenare la capacità anaerobica quindi potete andare su corsi.bikeitalia.it e qui segnarvi aggiungere i corsi oppure un'altra cosa che potete fare è iscrivervi alla vostra newsletter vi invito a iscrivervi alla nostra newsletter la trovate sul sito perché ogni domenica abbiamo iniziato due settimane fa per tutto vogliamo farlo per tutto il 2021 e tutto il 2022 tutte le domeniche alle 7 di sera mandiamo una newsletter gratuita dove prendiamo un problema che abbiamo visto nei nostri clienti della visita biomeccanica e nei nostri atleti che alleniamo che i nostri lettori ci hanno sollevato e diamo tre consigli per cercare di risolverlo quindi se volete ricevere una newsletter completamente gratuita tutte le settimane alla domenica sera per imparare sempre di più ad allenarvi in modo intelligente a risolvere i vostri problemi in bici e alimentarvi nel modo corretto iscrivetevi alla nostra newsletter intanto se avete domande scrivetele pure nella chat e sono qui assolutamente per rispondervi senza nessun problema vi ricordo invece l'appuntamento di settimana prossima il 23 settembre dove andremo a parlare invece di un altro problema che diciamo assilla sia i ciclisti sia le persone chiamiamole normali quelle sedentari che sono i dolori al risveglio cioè andremo a vedere perché abbiamo dolori al risveglio durante l'attività quotidiana e come risolverli cercando di agire in maniera globale e quindi andremo a delineare quali sono le pratiche che ci permettono di allenarci e di ridurre questi fastidiosi dolori che ci limitano ogni mattina detto questo se intanto non ci sono domande aspettiamo magari un minuto per vedere se ci sono delle domande se avete bisogno di ulteriori chiarimenti io vi ricordo quindi se volete approfondire il tema o corso di allenamento ad alta intensità o il corso di alimentazione il corso di allenamento ad alta intensità e di alimentazione il primo quello ad alta intensità costa 49 euro il secondo 75 euro è completamente online è come Netflix voi acquistate il corso lo seguite quando volete ogni volta che volete non c'è limite potete rivedere i video quanto volte volete e i video vi rimangono aperti vita natural durante finché esisterà Bike Italia esisteranno e avrete a disposizione i video altra cosa ovviamente iscrivetevi alla newsletter quindi andate su bikeitalia.it iscrivetevi alla newsletter e potete ricevere da domenica tutte le domeniche per almeno tutto il prossimo anno le nostre pillole della salute quindi dei consigli per migliorare la vostra prestazione in bicicletta per dimagrire per stare meglio per utilizzare al meglio questo mezzo che amiamo tutti quanti Ulisses Gabriel Miranda grazie mille per rispondare la chiarezza dei concetti good vibes grazie mille Ulisses spero che siano stati utili per te e che tu possa applicare direttamente nella tua pratica quotidiana come ciclista detto questo vedo che non ci sono altre domande io vi ringrazio per essere stati con me per mezz'ora e per aver ascoltato questo intervento sull'allenamento aspetta che è entrata una domanda Maurizio Merli non so se il termine è corretto ma è possibile aumentare il numero e il volume delle fibre muscolari più adatte al lavoro aerobico allora Maurizio mi nel senso il partizionamento delle fibre cioè quant'è la percentuale di fibre è definito geneticamente è per quello che i atleti di elite sono atleti che si si sono fatti il mazzo ma che avevano anche delle capacità genetiche avanzate quindi in generale il numero di fibre rosse di tipo 1 e di tipo 2 è definito alla nascita non esiste la possibilità di trasformare le fibre di tipo 2 in fibre di tipo 1 o le fibre di tipo 1 in fibre di tipo 2 questo è stato visto si credeva una volta invece è stato visto che le fibre sono quelle esistono delle fibre intermedie si chiamano di tipo 2A che sono un po' spurrie in base a queste è possibile se alleniamo maggiormente la potenza o alleniamo maggiormente la resistenza aerobica queste si spostano non si trasformano perdonami completamente però acquisiscono delle capacità che le avvicinano alle fibre di tipo 2 se siamo atleti di potenza o alle fibre di tipo 1 se siamo atleti di resistenza quello che però puoi migliorare all'interno della tua fibra intramuscolare è la coordinazione intramuscolare e soprattutto un'altra cosa che è la capacità delle fibre di tipo 1 di utilizzare il lattato generato dalle fibre di tipo 2 come carburante questa cosa viene chiamata lactate shuttle cioè lo shuttle del lattato in sostanza quando tu pedali e recluti ad alta intensità e recluti le fibre di tipo 2 queste producono più lattato questo lattato permane nel muscolo e acidifica il tutto ma con allenamenti ad alta intensità seguiti da una fase più blanda è possibile insegnare alle fibre muscolari di tipo 1 a prendere questo lattato e utilizzarlo proprio direttamente come carburante infatti il lattato non è un prodotto di scarto non è il cattivo dei film di James Bond ma in realtà il lattato è uno strumento è una molecola che viene utilizzata per sostenere lo sforzo fisico il problema è quando questo lattato viene l'accumulo di questo lattato è maggiore di quanto invece viene assorbito dall'organismo per cui non puoi trasformare le fibre perché queste sono definite a livello genetico però puoi far sì che un tipo prevalga sull'altro e che queste possano comunicare insieme spero di essere di essere stato chiaro ok allora abbiamo fatto mezz'ora di diretta intanto vediamo un attimo se ci sono altre domande se no altrimenti come sempre vi ricordo di andare sul nostro sito iscrivervi alla newsletter oppure scegliere i nostri corsi online detto questo allora a me non rimane che ringraziarvi nuovamente e darvi l'appuntamento a settimana prossima settimana prossima parleremo di dolori al risveglio un'anticipazione di questo a live verrà data la domenica con la newsletter per cui se volete già essere edotti e conoscere un po' quali sono i consigli per eliminare il dolore al risveglio iscrivetevi alla newsletter e se volete poi potete già mandare delle domande via mail oppure segnarvele e farmele in diretta senza nessun problema a me non rimane che ringraziarvi e augurarvi buon pranzo augurarvi buone pedalate e ci vediamo alla prossima ciao a tutti